amici del diario motori ciao eccoci qua dopo la lunga meravigliosa fantastica apertura del mondiale 2018 in qatar è stata una giornata che meriterebbe due o tre racconti diversi va bene cominciamo dalla dal principale andrea dovizioso ha vinto la gara come così era un po il favorito ha confermato dopo una prima parte di gara in recupero conservando le gomme con molta freddezza molta sicurezza ha dimostrato di essere davvero quello lì dell'anno scorso è tutto ricominciato da dove era finito insomma dovizioso contro marchesa ancora una volta all'ultimo giro marchesa all'ultima curva ha provato a passare dovizioso l'ha passato che però c'è stato poi un incrocio di traiettorie e il dovi per la terza volta su tre dopo l'austria e moteggi ha vinto la gara questa volta per 27 millesimi di secondo su marches grazie sia alla sua intelligenza alla sua freddezza all'ultimo giro ormai la sua conoscenza dell'avversario e anche al gran motore della ducati onda però è molto migliorata nessuno si aspettava che sarebbe andata così bene in qatar e appunto marches ha sfiorato la vittoria prendendosi anche molti rischi ma insomma sappiamo come lui quando è lì ci prova e terzo è stato un grande valentino rossi a meno di otto decimi che è riuscito quando è stato passato a riprendere la scia di dovizioso e marches ci ha provato ma non aveva proprio quel pochino che gli mancava per potersela giocare terzo posto però è una bella dimostrazione di consistenza di eterna giovinezza per valentino rossi e quarto è arrivato calcracciolo a dimostrazione a solo due secondi e otto dal primo quindi dimostrazione della bontà di questa onda in un circuito che non è mai stato molto amico quindi chissà vedremo un po preoccupa questa competitività onda però le cose poi possono l'anno scorso è partito fortissimo vignales con la yamaha e poi sappiamo come è andata a finire quindi vediamo per questa volta è stata meravigliosa una così un duello fantastico una gara fantastica piena di sorpassi piena di tensione molto bene anche danilo petrucci quinto anche se partiva dalla prima fila poi vignales che ha recuperato molto bene ha ritrovato fiducia è un modo un assetto con l'anteriore più rigido che gli dà maggiore confidenza se fosse partito un po più avanti era dodicesimo in quarta fila quindi insomma non proprio nel posto migliore però ha recuperato è stato molto bravo danni pedrosa settimo ha fatto una gara abbastanza opaca joan zarco che è stato davanti e partiva dalla pole ha fatto una pole fantastica partiva lì prima è stato davanti per molti più giri dell'anno scorso l'anno scorso sei giri poi cadde quest'anno un po ce lo aspettavamo è rimasto davanti molto di più poi però un certo punto ha dovuto mollare piano piano ed è arrivato a sette secondi appunto è ottavo quindi molto più indietro di quello che ce l'ho che ci si aspettasse da lui però è così sono le gare evidentemente questa dolcezza di guida di zarco questo sua capacità di non consumare le gomme non sempre funziona soprattutto quando ci sono questi ritmi non elevatissimi però al limite di quello che consentivano le gomme valentino rossi ha fatto degli ottimi giri alla fine quindi a maggiore conforto perché così possiamo considerarlo lui e la yamaha insomma abbastanza in palla poi hanno abbastanza margine di miglioramento gli annone nono peccato per rins che era lì davanti che se la giocava è scivolato così come scivolato for che lorenzo ma è stata una specie ha avuto dei problemi ai freni anteriore è andato largo per non finire contro le barriere si è auto buttato si è buttato in terra per cui insomma una brutta giornata per lui molto positivo franco morbidelli dodicesimo primo degli esordienti ma anche dietro a miller rabatto però davanti a bautista se arena dravano all'utile a kagami a smith a l'ex spargarò poi spargarò invece è caduto quindi insomma buono anche perché ha preso 16 secondi dal primo con una moto la onda del 2017 quella di marco chiaro che sarà l'ultima quindi quella che andava meglio però che in catar l'anno scorso qualche problema anche al campione del mondo l'aveva dato per cui insomma è una buona prestazione ancora guida un po con lo stile soprattutto in frenata mettendola di traverso così come la moto 2 ma sta imparando e quando impara lui arriva quindi ottima gara 16 secondi sono molto meno di un secondo giro perché i giri su 22 per cui per l'esordio assoluto in moto gp con una moto difficile come la honda grandissimo franco morbidelli poi qual è l'altra storia bellissima della quale dobbiamo parlare quella di francesco bagnaia e della moto 2 il pilota del team sky war 46 ha mantenuto le premesse parte in questo campionato insieme ad alex marquez e terzo e ad altri piloti però tra i quali bisogna mettere lorenzo baldassarri che ha finito secondo da danno lottando e sorpassando sia anche all'ultimo giro pure loro come nella moto gp è stato un un anticipo ovviamente la moto 2 ha corso prima ed è stata una gara fantastica anche qui 112 millesimi tra bagnaia e baldassarri i due peraltro abitano nello stesso appartamento vicino tavuglia e condividono appunto magari giocano sul divano con la playstation e hanno detto che si sono divertiti come quando sono a casa e appunto si fa si sfidano ai video game è bellissima abbastanza sfortunato alex marquez che era lì poi ha avuto un problema al freno posteriore diventato completamente roviente si vedeva il rosso nella notte del catà del freno dietro poi per mettere pastiglie si sono consumate completamente ha ripreso un po ad andare ma è arrivato comunque a cinque secondi e mezzo abbondanti da bagnaia mentre mattia pasini quasi riesce a prenderlo è arrivato a un secondo praticamente da marquez ma non ce l'ha fatta michele olivera con la prima delle ktm davanti al suo compagno brett binde ricordiamoci che l'anno scorso le ultime tre gare erano state niente dalla ktm di olivera davanti a binder quindi questa nuova kalex c'è questa kalex rinnovata hanno lavorato molto proprio per contrastare l'arrivo spaventoso per come è andato l'anno scorso di ktm e sembra avere funzionato molto bene ktm che peraltro è andata male in moto gp diciottesimo brady smith è caduto appunto pole spargarò ma non avevano mai brillato neanche in prova piuttosto male pure l'apriglia con alex spargarò diciannovesimo e scott reading ventesimo ci si aspettava molto di più ad oltre 30 secondi dal primo e poi c'è stata una meravigliosa moto 3 dove jorge martin il favorito di questo campionato dopo la vittoria la sua prima vittoria valencia l'anno scorso però con le nove pole insomma era atteso tra i migliori ha battuto aroncanè un altro spagnolo e comunque martin core per un team italiano il team del conca gresini quindi comunque un po di taglia vinte poi lorenzo dalla porta è terzo e quindi gli italiani sui nove podi possibili sono ben cinque e siamo partiti benissimo una specie di frecce di colori sul deserto un desert storm all'italiana vediamo un po quarto nicolo antonelli che partiva dalla pole col team 58 anche lui con la onda quindi quattro onda davanti poi rodrigo con la prima ktm e sesto fabio di gianantonio oppure lui del team gresini del conca insomma siamo e anche lui avrebbe potuto fare meglio peccato per bastianini che è caduto mentre era lì davanti con i primi ma insomma bella una prima giornata bella anche per la moto 3 però con gli italiani che sono lì e sono tanti ad andare forte ma insomma poi alla fine però bisognerebbe vincere invece anche quest'anno come due anni fa binder l'anno scorso mir sembra che ci sia qualcuno in questo caso martin e magari anche cani molto difficili da battere vedremo perché dalla porta antonelli di gianantonio minio e poi anche bastianini potrebbero dire la loro male nicolo bulega che è caduto ma era sempre indietro abbastanza difficile l'esordio come previsto di denis foggia su una pista dove non aveva mai corso in un mondo diverso da quello che era abituato uno che fa il ceve corre in europa è diverso da andare via stare fuori vivere in hotel vivere una gara extra europea e così sarà in argentina e ad ostin da carex secondo me dovremmo ritrovarlo la tra i primi diciassettesimo toni arbolino non molto bene e cosa dire male male direi rispetto alle aspettative la ktm quinta la prima quinta in moto 2 quinta in moto 3 appunto diciottesima in moto gp ci si aspettava di più da loro ci si aspettava di più da apriglia e adesso va bene adesso dobbiamo aspettare due settimane prima dell'argentina che sarà l'otto di aprile e vediamo se continuerà questo duello tra doviziose marquez e soprattutto come andrà a ducati su queste piste dove non ha provato dove non si sa ancora come riuscirà a cosa riuscirà a fare cosa riuscirà a fare marquez e anche ovviamente cosa riuscirà a fare valentino rossi bene oggi è stata una giornata fantastica un inizio bellissimo un campionato ci prospetta molto molto divertente ciao